Sono il dirigente scolastico del liceo artistico Felice Casorati di Novara, sono qui a Romagnano Sesia nel liceo artistico per inaugurare la biblioteca realizzata in collaborazione con la Fondazione Lucrezia Tangorra. Sono Laura Minuto, sono la vicepresidente della Fondazione Lucrezia Tangorra Ollus, festeggiamo quest'anno il quarto anno di attività della Fondazione e oggi stiamo inaugurando presso il liceo artistico di Romagnano Sesia la nostra sesta biblioteca. Ecco, presentiamo oggi questo nuovo posto, questo ambiente, questo spazio che è stato ristrutturato, era già una biblioteca poco utilizzata, adesso l'idea era di aprirla a nuove attività con il prestito libri ma anche altre possibilità di utilizzare questo spazio per ogni necessità. Grazie al contributo della Fondazione Lucrezia Tangorra di Novara siamo riusciti a fare l'acquisizione degli arredi ma anche del portatile e del proiettore che ci permettono di rendere questa biblioteca un progetto esperienziale anche con le attrezzature multimediali.